E non è una battuta, questa è la cosa che ho fatto. Un sentiero a forma di sentiero da sempre a sempre. Ecco, quella poetessa lì. Stai guidando? No, sono parcheggiato fuori dal ristorante. Che cazzo è? Tra un bicchier di whisky ed un caffè I am a solitary man Ma resta un caso unico che a me non è servito Però non ho capito bene la domanda che mi hai fatto, sinceramente. Ma anch'io nel farla sentivo un ponte che non andava dall'altra parte, Enrico Galliano. Cambia il mondo Così a noi, eternamente, tocca chiedere perdono Cantando Buonanotte, grazie a tutti.